nell'angolo della poesia di oggi la professoressa irene catarella recita la sua poesia inedita manifestazione per augurare buona epifania a tutti buona epifania a tutti e oggi il nostro hashtag angolo della poesia vuole augurarvi buona epifania con dei miei versi inediti inditolati appunto hashtag manifestazione perché la parola epifaino vuol dire proprio rendersi manifesti allora come dovrebbero essere le nostre parole la nostra vita il nostro cuore ecco i miei versi le vostre parole non siano come venti che smuovono le foglie ma come scalpelli che incidono di bellezza bene il mondo e siano seguite dai fatti che lo rendono vivibile all'umanità intera la vostra vita sia luce benefica per chi incrocia la vostra essenza perché non siate ombre che si dileguano girando a vuoto ma abbracci di vicinanza profonda che confortano chi soffre il vostro cuore non sia come radice inaridita dal dolore del vostro corpo anima ma frutto rigoglioso che nutre d'amore incondizionato chiunque lo assaggia buona epifania a tutti